bene questo era l'ultimo brano no ma come dai eravamo rimasti che era l'ultimo brano era l'ultima canzone ah ah questa cosa che si si dai vabbè intanto ne ha fatto un'altra poi vediamo dopo poi vediamo dopo uno cerca di fare le cose chiare da subito voi dite che vi sta bene poi in realtà no però dai 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 ma veramente fate come alla televisione proprio come alla televisione alla televisione fanno così cioè uno dice una cosa e quell'altro dice si si poi e avanti no e alla fine seppellite la gente la affogate la affogate non si fa così non potete affogare la gente il prossimo in mezzo a fiumi di parole torrenti d'eventi che lenti insidono le menti delle genti rendendoli potenti stelle inconscienti come sale GPS di mezzo a turbina d'eventi e questa è la realtà unica tragica storica priva di retorica figlia dell'America isterica discarica a donire che illusione che c'è poi un paradisi ma che invece sono gironi infernali dimozioni artificiali dove la crema di gioia e di dolore sono uguali banali formali stagome piatte bidimensionali quindi tutto è auto permanente un ciclo di fenomeni formato dalla gente secondo quella logica presa da latini che parla di spettacoli ci rendono agnellini miti passivi inoffensivi privi del bisogno da accettarci di essere vivi siamo cani sperimentali di Pavlov la cui salivazione viene dalla televisione controllata manipolata pianificata secondo il palistesto capore della giornata cominciando al mattino fino alla sera l'isterico pigiare del DJ sopra l'altra sera del telecomando scelta giacrando ora accelerando ora rallentando e lui che ci comanda in questa sarà banda d'opinione di fatto ci posso scegliere la banda UHF VHF occasione di BF ce ne sono la bizzeffe basta ribellarsi è un govere disconnetti il potere Ferrara vai su 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 Ferrara Ferrara salta salta stacca i piedi dal pianeta vai su su vai su pure tu lia giù vai su 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 sono intorno a noi in mezzo a noi in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo il fine è solo l'utile il mezzo ogni possibile a posti in gioco è passiva l'imperativo è vincere e non far partecipare a nessun altro nella logica del gioco la sola regola esser scaltri niente scrupoli o rispetto verso i propri simili perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili sono tanti arroganti quei più deboli e zerbini quei potenti sono replicanti sono tutti identici guardali stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere come lucertole si arrabbicano e se poi perdono la coda la ricomprano fanno quel che vogliono si sappia in giro fanno spendono spandolo e sono quel che hanno e sono intorno a me ma non parlano come me sono come me ma si sentono meglio sono intorno a me vai Ferrara ma non parlano come me sono come me ma si sentono meglio è come le supposte abitare in blister full optional con cani oltre i 120 meci bel senani manco fosse Disneyland vivono col timore di poter sembrare poveri quel che hanno stentano tutto il resto invidiano poi lo comprano in costante escalation col vicino costruiscono partono dal pratino e vanno fino in cielo ma più parabole sul tetto che sommarcono il Vangelo e sono quelli che di sabato lavorano automobili che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli vedi come i ceti più appartengono terra a terra come i missili cui assomigliano tiratissimi si infarinano si alcolizzano e poi si impastano su un albero boom nasi bianche come fruit of the loom che diventano più rossi di un livello di doom e sono intorno a me ma non parlano come me sono come me Ferrara ma si sentono meglio sono intorno a me ma non parlano come me sono come me ma si sentono meglio mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica mani ipocrite mani che fanno cose che non si raccontano altrimenti le altre mani chissà cosa pensano si scandalizzano mani che poi firman petizioni per lo scopero mani lisce come io di ricino mani che brandiscono manganelli che farciscono gioielli che si alzano alle spalle dei fratelli quelli che la notte non si può girare più quelli che vanno a mignote mentre i figli guidano le tv che fanno i boss che compran class che sono sofisticati da chiamare i nas incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zinghara ma l'unica che accendono è quella che dà loro le lemosine ogni sera quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera sono intorno a me Ferrara ma non parlano con me sono come me ma si sentono meglio sono intorno a me Ferrara non ti sento sono come me ma si sentono meglio sono intorno a me tutti quanti intorno a me ma non parlano con me ma non ci parlano con me sono come me come me ma si sentono meglio e sai perché tutti quanti intorno a me non parlano con me ma non ci parlano con me sono come me ma si sentono meglio buona vita a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.